ore 19 e 30 qui c'è un ruogo che è iniziato circa un 20 minuti fa che si parte dalle parti di tra taverna del re e vedete il cielo marrone che c'è sotto a tutta la zona fino a casacelle oltre terra dei fuchi ore 19 e 30 del 14 maggio 2011